Carissimi ascoltatori dello streaming, siamo qui quest'oggi con due dei protagonisti della prossima opera in scena al Teatro Carlo Felice, Maria Stuarda di Gaetano Donizetti. È la prima volta che quest'opera viene rappresentata a Genova, anche perché sin dal debutto di quest'opera avrebbe un debutto un po' travagliato, fu vietata subito nell'immediato, prima di andare in scena, durante le prove vennero sospese per una serie di motivi legati alla censura e a questioni legate al testo del libretto. Siamo qui con Desiree Rancatore, che è un ritorno al Teatro Carlo Felice dopo Violetta nello scorso dicembre e Celso Alvelo. Rispettivamente saranno Maria Stuarda e Roberto Lester in Maria Stuarda di Gaetano Donizetti. Volevo intanto iniziare sentendo Desiree che ha il debutto in questo ruolo difficile, quindi volevo sentire da lei come ha affrontato questo ruolo così impegnativo nello studio. Intanto salve a tutti, sono contenta di essere qui di nuovo al Carlo Felice che sta diventando un po' casa e debuttare questo ruolo così complicato, grande, emblema di quello che è il bel canto donizettiano qui, in questo teatro. L'ho affrontato studiandolo, studiandolo molto, cercando appunto il particolare, la variazione, l'abbellimento e soprattutto il sottolineare le parole perché quello che dice Maria Stuarda a volte è anche molto pesante, specialmente nei confronti di Elisabetta, infatti penso che tutti aspettino sempre l'invettiva che c'è nel primo atto, penso che sia la frase più famosa e più pesantissimo. Quindi studiandolo, studiandolo, studiandolo come sempre. Bene, invece Celso è un ritorno al Carlo Felice, se non sbaglio dopo il Don Pasquale di qualche anno fa? Sì, è il mio ritorno dopo quel, sempre con Donizetti, è un compositore che mi ha portato tanta fortuna e che mi accompagna fin da allora. E niente, contentissimo di tornare con un'opera come Maria Stuarda, con un ruolo che apparentemente potrebbe sembrare semplice, però che è pieno di questi piccoli problemini che dobbiamo stare attenti. Difficoltà anche da un certo punto di vista di tessitura, se non sbaglio. Sì, certo, soprattutto io dove trovo la parte più complicata è in quest'area dell'inizio, l'area è un duetto che è molto complicata di gestire perché gli attacchi sono costantemente sul passaggio e si deve arricchire senza perdere mai la morbidezza. Hai già cantato diverse volte questo ruolo? Sì, l'ho cantato un po' dappertutto, in Spagna, New York, Metropolitan, adesso è qua, insomma. Bene, bene, bene. Benissimo. La vostra esperienza con questa regia è il secondo capitolo della trilogia delle cosiddette tre regine di Gaetano e Donizzetti e siamo al secondo capitolo. Dopo il Devereux dello scorso anno, questo è il secondo capitolo con Maria Stuarda. La regia, come lo scorso anno, è di Alfonso Antognozzi. Volevo appunto, Alfonso che è stato fra noi, con noi recentemente come investe di cantante nell'Isir d'Amore, in questo caso è investe di regista. Volevo sentire da voi la vostra esperienza, lavorare con Alfonso, quindi un cantante, regista. Com'è stato questo percorso in questi giorni di pro? Alfonso ti rende comico qualsiasi dramma, insomma, quindi nel senso non in scena ma alle prove. Sta lavorando molto bene, ovviamente anni e anni di carriera lo hanno formato per poter arrivare anche a fare il regista, anche perché lui comunque è un essere poliedrico, no? Grandissimo. Ci fa divertire tantissimo i suoi sottotesti alle prove. Sì, soprattutto ci rende il lavoro molto più semplice, perché capisce magari prima di noi i bisogni che possiamo avere come cantanti, come allora. È stato molto, molto, molto gradevole lavorare con lui. Sì, ho notato anche durante le prove che lui è stato molto attento anche alle posizioni, logicamente, essendo lui un cantante, non troppo indietro, non troppo avanti. Sì, anche perché la scenografia è bellissima, ma non è una scenografia acustica, nel senso che può creare una camera acustica per noi cantanti. Quindi ovviamente ci dobbiamo dividere fra la pedana rialzata e il davanti del palcoscenico per poter avere un risultato ottimale a livello di equilibrio. Benissimo. E quindi, niente, tornando alle vostre, sono un po' curioso di sapere il vostro debutto, qual è stato nel, diciamo non in questo ruolo chiaramente, ma in teatro. Sono curioso di conoscere un po' la vostra storia. Io... È stato con Rigoletto. La gente mi diceva non farlo che magari non per la tua vocalità adesso è forse stato il ruolo che più ho cantato in assoluto, più, non so, sicuramente più di cento volte. Che anno questo? 13 anni fa. Io ho debutato nel 96 al Festival di Salisburgo, quindi sono passati 21 anni, ero una bambina, quindi non ci tengo a dirlo, e continuo ad esserlo, però è stato un grandissimo debutto, insomma ho iniziato dal gota, diciamo, della lirica, e poi ho debutato con questo signore qua, nel 2007, Lakme, in Giappone, io ero a tre anni di carriera che facevo, allora certo arriva a Rancatore, a cantare Lakme, per me era di quei miti che... Manco mi toccava, no? E adesso è l'unico che mi dice stai zitta Rancatore. No, dopo di che siamo diventati amici... Abbiamo fatto tantissime... Fratello, sorello... Lui è mio sorello, io sono sua fratella, e abbiamo fatto tantissime, tantissime opere insieme, è sempre una grande gioia ritrovarlo, anche se in questo caso non siamo nello stesso cast, ma comunque l'ho ritrovato, e lo vedo, e sono contenta, e lo sento anche perché vado alle sue prove, quindi... Bene, bene, e tornando a Desiree invece, volevo sapere, cambiando appunto tutti questi ruoli, Lakme, Violetta, volevo sapere come riesci a rendere queste personalità diverse anche per tipologia, anche passando appunto, debuttando questo ruolo di Maria Stuarda? Intanto c'è uno scavo del personaggio a monte di quello che è la musica, cioè quello che può essere lo scavo psicologico del personaggio, l'ho sempre fatto, fin da quando ero molto molto giovane, l'ho fatto con Lakme, quando debuttai Lakme, mi ricordo che era come se vivessi in India, ho vissuto in India tre mesi, avevo la mia migliore amica che purtroppo è scomparsa, era indiana, quindi io vivevo in queste case di gente indiana a capire un po' loro come si muovevano, come mangiavano, cosa bregavano, le movenze, e in più, anche per Lucia ho fatto studi sulla psicologia, sull'isteria, adesso per Maria Stuarda mi sono letta due tomi di 400 pagine per capire un po' la storia, devo dire che lei è una grandissima passionale e anche se la storia di Donizetti non rispecchia la storia reale di quello che è, tranne che per alcuni punti, il tratto passionale di Maria Stuarda nella musica, nelle parole è rimasto, quindi caratterialmente a Maria Stuarda di Donizetti è Maria Stuarda Reale. Bene, una domanda a Celso, qual è il suo ruolo, volevo chiedere, sono curioso di sapere qual è il suo ruolo preferito caratterialmente del suo repertorio? Io ho una persona che ho un cuore abbastanza fragile nel senso che mi innamoro di quello che sto cantando in quel momento, adesso sono pienamente innamorato dell'icester e così deve essere perché altrimenti che dito della mano mi posso togliere che non mi fa male? Allora, se sono innamorato di Nemorino, sono innamorato di Arturo di Puritani, innamorato a modo mio del Duca di Mantua perché non c'è niente da vedere con me. Insomma, ci sono tanti che mi hanno dato tante soddisfazioni che sempre, cioè non potrei scegliere uno. Anche perché abbiamo avuto la fortuna di poter scegliere questi ruoli, no? Hanno scelto loro noi, ma le abbiamo anche scelte. Cioè è sempre innamoramento quando poi affronti un ruolo. Io ho un cuore fragile, ripeto. Bene, allora amici, per concludere vi chiedo se potete mettere un autografo sulla nostra locandina. Prego. Ecco, se volete farlo contemporaneamente. Tanto spazio ce n'è. Perfetto, anche perché poi le prove incombono e dovete andare sicuramente a riposare per le prove di questo pomeriggio. Sì, adesso continuiamo con il secondo atto. Bene, siamo tutti molto contenti del risultato perché veramente non è una opera semplice di ogni sette, è mai stato un compositore semplice, spero, e stanno dando le prove. Siamo tutti contentissimi. Bene, buon lavoro e un grosso in bocca al lupo. Grazie Crepi. Grazie. Ciao. 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 Ciao.